Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo di Francesco Guicciardini. Prima però vi ricordo di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate? Comediario di Charlotte. Dopo aver parlato di Niccolò Machiavelli, parliamo di Francesco Guicciardini, nato a Firenze nel 1483. Anche lui riceve una formazione umanistica, ma poi studia giurisprudenza ed esercita l'avvocatura, come molti degni intellettuali del 400, del 300, del 500. Nel 500 però Francesco Guicciardini ha la possibilità di intraprendere la carriera ecclesiastica. Tuttavia suo padre si oppone, quindi torna a studiare le leggi e pianifica la sua entrata in politica. Nel 1508 Francesco Guicciardini si sposa e inizia a lavorare prima per la Repubblica Fiorentina e poi per i Medici. Tre anni dopo, nel 1511, diventa ambasciatore presso il re Ferdinando il Cattolico, quindi il re di Spagna. A proposito del Regno di Spagna e dei re cattolicissimi, vi lascio qui una video-lezione. Quali sono le prime opere di Francesco Guicciardini, celebre per i suoi ricordi? Scrive una storia di Firenze dal 1378 al 1509. Quindi questa storia di Firenze di fatto parte dalle rivolte dei Cionpi, gli operai subalterni della Lana, fino alla Battaglia di Agnadello. In quest'opera elogia Lorenzo de' Medici e critica Savonarola. A proposito dei Cionpi e quindi anche della crisi che investe il 300 e anche Firenze, vi lascio qui un video dedicato alla crisi del 300. Francesco Guicciardini scrive inoltre varie relazioni sul viaggio in Spagna, come abbiamo detto, dal 1511 e al servizio del re di Spagna, Ferdinando d'Aragona. Inoltre scrive nel 1512 il discorso di Logrogno. In questo discorso, che prende il nome da una città della Spagna, sostiene l'importanza di una riforma aristocratica della Repubblica Fiorentina. Come sappiamo però, nel 1512 i Medici tornano a Firenze. Delle vicende dell'epoca a Firenze ne abbiamo parlato nel video dedicato a Machiavelli, che è stato particolarmente segnato nella sua carriera politica da questi cambiamenti politici. Ve lo lascio qui per completezza. Guicciardini però continua la sua scesa politica, a differenza di Machiavelli che avrà poi delle battute d'arresto nella sua carriera. E nel 1516, sotto Papa Leone X, viene anche nominato governatore di Moneda e di Reggio. Quando nel 1521 Papa Leone XI si allea con l'imperatore Carlo V ed entra in contrasto con Francesco I, il re di Francia, Guicciardini diventa commissario generale dell'esercito pontificio. Scrive, tra il 1521 e il 1526, il dialogo del reggimento di Firenze. Questo è un trattato dialogico che è ambientato dopo la cacciata dei Medici del 1494, nel quale alcuni esponenti repubblicani dialogano con Bernardo Dal Nero, che era un sostenitore dei Medici e della Signoria. Nel 1527 però il sacco di Roma muta nuovamente gli equilibri. I soldati Lanzichenecchi di Carlo V d'Asburgo saccheggeranno la città e Guicciardini sarà costretto per aver servito i Medici a ritirarsi a vita privata. Scriverà in sua difesa delle orazioni la consolatoria, l'accusatoria e la defensoria e inizierà anche a stendere la storia d'Italia, l'unica sua opera scritta con l'intento di essere divulgata. Quando però viene restaurato il potere dei Medici, Guicciardini può rientrare a Firenze e inizia a ricoprire altri nuovi incarichi per conto del Papa Clemente VII e diventa anche governatore di Bologna. È proprio in questo periodo che oltre a scrivere le considerazioni intorno ai discorsi di Machiavelli scrive i ricordi, quindi la sua opera più importante. Nelle considerazioni, Guicciardini si discosta, quindi si allontana dal pensiero di Machiavelli e rifiuta anche l'idea della storia come maestra di vita. Sottolinea invece l'importanza di tener conto del particolare, ovvero dell'impossibilità di ricavare leggi universali, perché ogni contesto storico-sociale è differente. Quando sale al potere Papa Paolo III, Guicciardini si ritira nella sua villa di Santa Margherita, ad Arcetri, dove muore nel 1540. Tra le opere più celebri, come dicevamo, di Guicciardini abbiamo La storia d'Italia e poi I ricordi. La storia d'Italia è un'opera scritta tra il 1537 e il 1540, come dicevamo, ed è pensata addirittura in 20 libri. Racconta la storia d'Italia dal 1492 al 1534 e descrive la decadenza italiana, ma anche utilizzando fonti documentari, quindi analizzando la storia. Ma noi, Guicciardini, lo studiamo a scuola soprattutto per i suoi ricordi, per i suoi avvertimenti, per i suoi avvenimenti da ricordare. Infatti, questo titolo è stato proprio ricavato dai passi dell'autore e rimanda a quella pratica delle scritture familiari della tradizione mercantile. Abbiamo tre redazioni dei ricordi. I primi appunti in due quaderni del 1512, una redazione del 1528 e poi l'ultima edizione definitiva, che consta di 221 ricordi. I ricordi sono quindi il frutto della percezione della fine di un'epoca e sono una raccolta di pensieri che non ha le caratteristiche di un sistema, perché sono degli appunti sparsi, una sorta di zibaldone con dei pensieri delle massime dell'autore. Due però sono i concetti importanti di quest'opera. Uno già lo abbiamo anticipato, c'è quello del particolare, e l'altro è la discrezione. L'anno prossimo studierete Galileo Galilei in quarta e noterete una sua introduzione per quanto riguarda la sua opera più importante, Il dialogo sopra i due massimi sistemi, rivolta al lettore discreto. Oggi quando noi diciamo, sii discreto, spesso intendiamo riservato. In realtà però il termine discreto, etimologicamente, viene dal verbo discernere e quindi saper distinguere caso per caso. Ed è questa la capacità di cui ci parla Guicciardini, saper essere discreti, cioè distinguere caso per caso, analizzare, ponderare. La parola ponderare viene da pondus, quindi peso, cioè soppesare tutto. D'altra parte abbiamo anche il particolare, cioè la cura nella propria posizione sociale, nella dignità personale, sono proprio il punto d'arrivo di questa capacità di discernere, di distinguere, data anche dall'esperienza. E grande errore, ci dice nel sesto ricordo Guicciardini, parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente. Assoluto vuol dire sciolto da ogni vincolo. E per dire così, per regola. Perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione per la varietà delle circostanze, quindi del contesto, oggi diremmo, le quali non si possono fermare con una medesima misura. E questa distinzione ed eccezione non si trovano scritte sui libri, ma bisogna le insegni la discrezione, cioè la nostra capacità di discernere, di distinguere, di analizzare. Leggiamo ora il particolare, ricordo 28. Io non so a chi dispiace più che a me l'ambizione, l'avarizia e la mollizia dei preti. Sì perché ognuno di questi vizi in sé è odioso, sì perché ciascuno e tutti insieme si convengono poco a chi fa professione di vita dipendente da Dio. E ancora perché sono vizi sì contrari che non possono stare insieme se non in uno subietto molto strano. Non di meno il grado che ho avuto con più pontefici mi ha necessitato ad amare per è il particolare mio la grandezza loro. E se non fossi questo rispetto avrei amato Martino Luther quanto in me medesmo. Non per liberarmi dalla legge indotte dalla religione cristiana nel modo che è interpretata e intesa comunemente, ma per vedere ridurre questa caterua di scelerati a termini debiti, cioè restare senza vizio, senza autorità. Quindi che cosa fa qui Guicciardini? Ci parla di una sua esperienza, diciamo delle sue considerazioni riguardo i preti, i loro difetti, i loro vizi che sono l'ambizione, l'avarizia e l'indolenza, la mollezza potremmo dire. E qui però lui dice che è stato per lui molto importante imparare ad osservare il particolare. perché se non avesse guardato il particolare allora si sarebbe liberato, no? Delle leggi, potremmo dire, dei precetti, va bene? Della religione cristiana in quanto avrebbe fatto di tutta l'erba un fascio. Invece lui sa che deve guardare il particolare. Un altro elemento che ha un grandissimo peso nelle vicende umane e nella produzione di Guicciardini è la fortuna che non si può prevedere e con la quale tutti devono fare i conti. Quindi bisogna essere discreti, prudenti, ma ciò non basta, serve anche la buona sorte. Nel ricordo 30 leggiamo infatti la fortuna. Chi considera bene non può negare che nelle cose umane la fortuna ha grandissima potestà, quindi ha un grandissimo potere, perché si vede che ogni ora ricevono grandissimi moti da accidenti fortuiti. Quindi accade che noi abbiamo una fortuna per caso per un accidente, quindi non per un qualcosa legato alla sostanza, no? Riprendendo un po' le divisioni aristoteliche tra accidenti e sostanze. E che non è in potestà degli uomini né a prevedergli né a schifargli, quindi è difficile prevedere questi accidenti e anche evitarli, schivarli potremmo dire. E benché l'accorgimento e sollecitudine degli uomini possa moderare molte cose, non basta, bisogna ancora avere la buona fortuna. Quindi abbiamo bisogno della fortuna. Per quanto riguarda Guicciardini, abbiamo inoltre anche un valore dell'antico che differisce da quello di Machiavelli, in quanto ci dice Guicciardini quanto si ingannano coloro che ogni parola allegano ai romani. Non si possono trarre principi universali dagli eventi perché la realtà è frammentata e irrazionale e noi dobbiamo guardare il particolare e essere discreti. In questo schema vedete qui un Guicciardini versus Machiavelli con le differenze principali nel loro pensiero. Quindi in Guicciardini, per esempio, l'uomo è più incline al bene che al male, mentre in Machiavelli l'uomo è malvagio per natura, egoista. In Guicciardini la fortuna determina l'esito degli eventi, invece la fortuna in Machiavelli può essere dominata, battuta e urtata. In Guicciardini la realtà è irrazionale, quindi non possiamo cogliere leggi assolute. Invece, secondo Machiavelli, sì, è possibile analizzare la realtà e cogliere delle leggi universali. La storia antica in Guicciardini non è esemplare, no? Quei famosi exempla. Invece, in Machiavelli, la storia antica è maestra di vita. Secondo Guicciardini, la miglior forma di governo è l'oligarchia, il governo dei pochi. Secondo Machiavelli, invece, la miglior forma di governo è la repubblica. Ci vediamo alla prossima video-lezione. Grazie a tutti.